Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV. Oggi è martedì 22 marzo e stiamo per iniziare la rassegna stampa che tra poco mostrerà i titoli delle notizie più importanti su due quotidiani, dei tre che solitamente prendiamo in esame perché il messaggero questa mattina ha dei problemi con la versione in PDF, la versione digitale che noi solitamente scarichiamo per farvela vedere sul touchscreen. Allora cominciamo dal santo del giorno, naturalmente oggi è martedì santo ma ricorda la chiesa tra i vari santi beati, il beato Clemente Augusto Vescovo, il sole è sorto alle 6.06, tramonterà alle 18.23, cambia il tempo, un tempo peggiore, il tempo del Verge è un tempo da lupi stamattina, non so se riusciamo a vedere la telecamera esterna del Pincio, eccola qua, vedete nuvole molto basse, non si vede neanche la collina di Montegiove che è alta 200 metri, più o meno 250 metri, questo è anche il traffico in diretta vedete delle 7.30 sul nodo principale, sulla rotatoria principale della città di Fano, siamo nell'area del Pincio, vedete come dicevo la pioggia, pioggia che oggi inizialmente sarà debole e sparsa ma che poi andrà ad intensificarsi soprattutto dal tardo pomeriggio, i venti saranno nord orientali, le temperature senza variazione di rilievo, per domani non migliora, anzi peggiora, vedete abbiamo anche la neve nell'entroterra, in particolare sui Sibillini, arriveranno anche venti moderati nord orientali con raffiche fino a burrasca lungo la costa, quindi attenzione, le precipitazioni saranno diffuse a prevalente carattere di rovescio o di temporale, anche di forte intensità, più insistenti sulla costa centro-meridionale, progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire dal settore pesarese. Poi dopo la giornata di giovedì non è un granché lo stesso, anche se poi avremo delle schiarite oltre alla pioggia perché inizialmente avremo precipitazioni con rovesci e maggiori quantitativi nei settori meridionali della regione, i venti sono sempre nord orientali e moderati lungo la costa di brezza tesa all'interno con raffiche fino a burrasca lungo la fascia costiera. Per l'appunto avremo un cielo inizialmente nuvoloso nella giornata di giovedì, in particolare nel settore nord della regione e poi ancora nuvole, insomma tempo perturbato. Poi arriveremo a un miglioramento per il fine settimana con tempo stabile e soleggiate, probabile lieve peggioramento nella giornata di lunedì di Pasqua, che comunque è lunedì dell'Angelo. Allora, andiamo adesso a leggere i due quotidiani, dunque i titoli con il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico, la pagina, la fotonotizia del Carlino di Pesaro è per un noto ristoratore che dopo dieci anni, pensate, quindi questa è una storia che riguarda questo imprenditore, dopo dieci anni si è visto, per fortuna diremmo, avere il permesso con cui trasformare il lastrico del suo locale in un balcone. Vedete anche che bel balcone perché si affaccia sul lungomare pesarese. Alla fine il titolare deve ringraziare il sindaco di Pesaro Ricci. La terrazza infinita, questo è il titolo. Poi vedremo tra un istante l'operatore ecologico che non si sforza e lascia i rifiuti che pesano troppo. Lo vedremo tra un istante. Poi parleremo e vedremo all'interno della vicenda, la tragedia del ciclista fanese morto domenica mattina durante una gara in Romagna. La famiglia fa adesso un esposto. Diteci che cosa ha ucciso Filippo, si attende il risponso dell'autopsia. Allora, cominciamo dalla busta pesante, della busta del verde che pesa troppo. L'operatore protesta e non la ritira. È una scritta, ha scritto troppo pesante, come giustificazione. Marche Multiservizi, per bocca del suo direttore Mauro Tiviroli, amministratore di Marche Multiservizi, dice noi ci scusiamo, ci dispiace che questo signore non si sia fatto vivo con noi ma sia andato a denunciare questa cosa al giornale per il disguido. Insomma, a volte purtroppo ci sono comportamenti dei dipendenti non allineati con quelle che sono le direttive dell'azienda, però insomma, vedete il cartello, c'è la scritta, più che cartello, troppo pesante. 20 kg è il peso massimo che può trasportare l'operatore nella busta del verde di Marche Multiservizi, eppure dice lui quello che ha portato questo verde, gli sfalci probabilmente in questa busta, dice io ho più di 70 anni, quel peso l'ho attaccato sopra il cancello e insomma non è successo niente. Poi la domanda, la curiosità soprattutto, che fine fa il verde che noi lasciamo in quei contenitori, adesso per esempio ecco, dalle nostre parti ci sono i contenitori, mentre a Pesero per esempio ecco vedi c'è il sacchettone. Beh, che fine fa questo verde? Finisce, se è puro diventa compost oppure viene utilizzato come biomassa. E Marche Multiservizi dice noi ne raccogliamo ogni anno 42 kg per abitante, questa è la curiosità. Da Fanno invece c'è il problema dei bivacchi all'asilo, ora le mamme, i genitori chiedono le telecamere dopo l'ennesimo furto al Manfrini, monta la rabbia delle mamme appunto non è tanto per l'entità dei furti, il problema dicono è che quelli che entrano saranno dei tossici probabilmente, che poi toccano la roba che magari i nostri figli mettono in bocca, insomma quindi c'è un problema anche di igiene, di sanità, ecco che non è tanto per quello che portano via, per l'entità della merce rubata, insomma. Poi al di là dei danni, al di là della psicologia, giustamente una mamma diceva ieri al nostro telegiornale, insomma anche i bambini che vedono continuamente queste maestre preoccupate, le forze dell'ordine che vanno che vengono, poi capiscono tutto, sentono, ma non hanno senso critico, no? Quindi si fanno prendere a volte anche dalla paura, poi magari vanno all'asilo un po' controvoglia, ecco, quindi con un po' di paura addosso e non è giusto. Mille ombrelli invece per dire no alle mafie, tutte le mafie, la pioggia non ha rovinato la marcia di Libera, il sole siete voi tutti, ha detto il sindaco di Fano Seri e il vescovo, trasarti serve un'ecologia del cuore. Questa è la pagina di Fano, ma sulla la vicenda e la tragedia più che altro del ciclista Filippo Palazzi di 44 anni, morto durante una gara ciclistica, stroncato da un infarto, dicevamo dai titoli che la famiglia adesso vuole chiarezza e parte un esposto ai carabinieri, si vuole verificare la regolarità dei presidi di gara. L'altra pagina, l'andiamo a leggere su quella di Fano e Valle del Cesano, si parla della BCC di Pergola, banca di credito cooperativo di Pergola che festeggia i suoi 50 anni, un bilancio ottimo, poi c'è l'Espodi, c'è il direttore Mario Montesi che affronta anche il problema delle fusioni delle BCC, sapete che c'è un po' di confusione in questo periodo, ma insomma staremmo a vedere, in programma un libro, corsi per gli imprenditori e aiuti per i giovani volenterosi. Questa è la notizia più in evidenza, mentre sopra da Mondolfo c'è la cronaca, la cronaca con questa strage di gomme, gomme di automobili, i carabinieri adesso sono sulle tracce dello sfregiatore seriale, raccolte testimonianze preziose su alcuni avvistamenti sospetti nelle ore del ride, lo ricorderete sicuramente, ieri ne abbiamo parlato, ben 14 automobili sono state ritrovate dai rispettivi proprietari con le gomme tagliate, è stata un'autentica strage di pneumatici che è stata compiuta nella notte tra sabato e domenica da un vandolo, forse più di uno a Mondolfo e quindi adesso tutte queste persone che hanno avuto l'auto danneggiata ne hanno fatto denunce e quindi adesso i carabinieri stanno lavorando per cercare di individuare l'autore o gli autori di questo ride. La pagina invece sul quotidiano nazionale del resto del Carlino, quella che si occupa di confindustria e delle elezioni di confindustria, tratta della scelta che farà poi la confindustria delle Marche dopo Squinzi. Ancone e Pesaro sono con Vacchi, Macerata e Fermo indicano invece boccia ancora incerta solo la confindustria di Ascoli Piceno. Il presidente regionale Bruno Bucciarelli dice questa divisione è per me un forte dispiacere. Aveva presentato la candidatura a livello nazionale anche Silvano Lattanzi, re delle scarpe di lusso. Andiamo adesso sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano è iniziato il balletto della crisi politica, progetto Fano, Udc, La tua Fano e 5 Stelle chiedono le dimissioni di serie, il PD trova il compromesso, gli interessi di partito fanno velo a quello del territorio di vedere formarsi una unità politica. I comunisti dicono no a Fosso Segliore, sì invece a Chiaruccia e qui chiaramente si parla del futuro ospedale, del futuro nosocomio. Poi ancora altre notizie che troverete sempre sulla pagina di Fano, noi ci fermiamo soltanto qui al titolo sopra. Marcheggiani vuole incontrare Ceriscioli per sciogliere i nodi, c'è incertezza sull'eventualità di progetti per altri siti, si vocifera che sia già tutto deciso da tempo. Poi l'altra pagina di Fano, in campo giovani e donne da Serrungherina, le relazioni sociali come bene della comunità, le sfide di lavoro e welfare. Poi il ricordo di Filippo Palazzi, un uomo eccezionale, tragedia incredibile, lo sgomento del patron della squadra sportiva. Poi sotto vedete qua un ponte di comando saldato nel porto di Fano, cinque blocchi di alluminio spediti in Liguria e certamente vedete sono oggetti di grandissime dimensioni che hanno testato in questi ultimi giorni curiosità da parte di coloro che stavano transitando vicino al porto di Fano, un'operazione condotta con professionalità e alla fine insomma tutto è andato bene, adesso questi blocchi andranno appunto in Liguria dove verranno montati, credo che sia una nave passeggeri, non so se è da crociera o giù di lì. Poi l'altra pagina del Corriere, centro storico, siamo a Pergola, centro storico idee per la rinascita, successo l'assemblea di Pergola Unita, ora tocca a commercianti e operatori. Poi ancora sempre dal Corriere Adriatico andiamo questa volta a Senigallia, Senigallia dà ampio spazio alla morte del Vescovo Emerito della Diocesi di Senigallia Odo Fusipecci, domani in Cattedrale l'ultimo saluto al Vescovo Emerito, oggi ci sarà una veglia e la preghiera. Ha dato un forte impulso alla causa di beatificazione di Papa Mastai e ha introdotto quella di Enrico Medi. Questa è la pagina di Senigallia, chiudiamo con quella di Pesaro, eccola qua, intanto sopra la crona che vedete è sgominata la banda dei tir presa con 51 capi di don d'app, la polizia stradale ha arrestato sei persone, tutte di origine campane, attiva tra l'Emilia Romagna e le Marche. Come agivano? Praticamente la tecnica era sempre la stessa, prendevano di mira i tir che si fermavano in sosta notturna nelle aree di servizio tra Modena, Bologna e Pesaro. I mezzi venivano aperti con uno squarcio nel telone e quando all'interno si vedeva che c'era della merce che interessava ai ladri veniva rubata e portata via con dei camion. Ora, quando sono stati scoperti hanno trovato 51 capi di abbigliamento della don d'app che tra l'altro è di Fossombrone, un valore di 50 mila euro, quindi neanche poco. A centro pagine invece sul Corriere Adriatico di Pesaro, FME trasloca. Che cos'è la FME? La FME è un'azienda, un'azienda di materiali edili che dovrà spostarsi dall'area in cui in questo momento si trova, che è vicino al cimitero centrale di Pesaro, che si affaccia sul San Decenzio. Quest'area dovrà essere abbandonata perché quell'area dovrà diventare un parcheggio. Chiaramente un'azienda non è che dice ok va bene vado via e finisce lì. In cambio la ditta avrà 36 mesi per andarsene, avrà diverse cose che ha chiesto in cambio al comune di Pesaro e quindi insomma un do-des che fa sì che poi lì finalmente possa sorgere questo parcheggio, questo parking per 640 mila euro di investimento. Una soluzione tra l'altro attesa da vent'anni su cui l'opposizione però ha espresso perplessità. E che cosa avrà in cambio questa azienda dal comune di Pesaro lo potrete leggere nell'articolo del Corriere Adriatico che troverete nella vostra edicola di fiducia. La nostra edicola invece chiude quella elettronica qui. Ci rivediamo, la riapriremo domani mattina alle 7.30. Grazie come sempre in diretta, grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci. Grazie a tutti.